Teramo si vestirà a festa per l'arrivo del Natale, un vestito luminoso che abbaglierà i visitatori, ma anche culturale e gioioso, con tanti eventi a partire dal 30 novembre. L'intera iniziativa prende il via con la firma del protocollo d'intesa tra Comune, Provincia, Camera di Commercio e Consorzio dei Commercianti. Tra le novità, la via Capuani, illuminata dalle parole di Ivan Graziani, e un trenino gratuito che collegherà il parcheggio di Piazzale San Francesco al centro storico. Continuiamo su questa strada alla luce dell'evento dell'anno scorso, cercando di migliorare ulteriormente sia sotto l'aspetto delle luminarie e degli allestimenti, sia sotto l'aspetto degli eventi che nei prossimi giorni presenteremo. Le luminarie hanno delle novità importanti e alcune conferme. Le conferme riguardano i Tigli, dove il Bosco Incantato continuerà ad essere installato, con dei potenziamenti e soprattutto dei contenuti nuovi, quindi tante fiabe, tanti appuntamenti che faremo lì, proprio dedicati ai bambini. Stessa cosa Piazza Sant'Anna, che sarà dedicata con spettacoli e alcuni appuntamenti mattutini, soprattutto di domenica, sempre ai bambini. Piazza Sant'Agostino, che mantiene una vocazione no gastronomica, con degli aperitivi e tanta musica, tanti eventi di musica su quella piazza. Piazza Martiri, che ha la novità di accogliere il mercatino. Chi ha progettato tutto questo? L'abbiamo fatto insieme ai commercianti, sempre con questi quattro enti, insieme a degli architetti che ci hanno dato chiaramente una mano a pensare tutto questo nuovo Natale della Mano, anche partendo da alcuni errori che l'anno scorso avevamo fatto, soprattutto sui mercatini, sulla parte commerciale. Quest'anno abbiamo puntato appunto su Piazza Martiri, perché sicuramente abbiamo più richieste su Piazza Martiri. Chi verrà a Teramo che cosa troverà? Chi verrà a Teramo troverà certamente una città meravigliosa. Abbiamo questa anche installazione molto molto particolare su Via Capuani, dedicata ai Mangraziani, con le sue canzoni. Quindi, insomma, ci aspettiamo tante persone, tanti appassionati da tutta Italia, spinti anche da questa novità molto importante.